bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 siamo in periodo natalizio è quasi il 25 di dicembre oggi è il 20 dicembre quindi mancano 5 giorni ragazzi perché sia Natale raga e quindi vi volevo chiedere prima anzi prima di chiederlo ragazzi vi avviso che farò il fuck you time sicuramente verso il 22 23 quindi settimana prossima lunedì o martedì se riesco prima di Natale ovviamente prima del 25 allora ragazzi partiamo subito quindi cosa vorreste per Natale cosa chiederete per Natale io sicuramente so per certo ragazzi scrivetemelo giù nei commenti quello che vorreste quello che chiederete sicuramente sono certo che chiederete o Xbox One o PS4 per voi che siete amanti magari dei videogames queste saranno diciamo le vostre prime opzioni le prime scelte ragazzi io sinceramente ve le consiglio entrambe perché sono due ottime console ovviamente l'unica cosa che da quello che mi hanno detto è più veloce la PS4 però sinceramente a livello di esclusive stiamo parlando io parlo sempre ragazzi a livello di esclusive io per adesso sono rimasto soddisfattissimo da queste prime due esclusive che sono forza motosport 5 anzi no c'è anche Dead Rising ma è lì ragazzi vabbè comunque anche Dead Rising sono veramente delle diciamo esclusive buonissime di ottimo livello e poi ovviamente ragazzi per non parlare di Titanfall quando uscirà ragazzi poi non so se ci sarà anche per PS4 ma da quello che so inizialmente sarà esclusivamente per Xbox One poi ragazzi ovviamente chi già di voi ha la next gen sicuramente chiederà non lo so un gioco due giochi un controller in più un non lo so un abbonamento che cazzo ne so ragazzi qualsiasi cosa che riguardi il videogames o magari anche un outpage ragazzi perché no anche un outpage sarebbe un'idea ottima per poter incominciare magari su YouTube facendo dei video di ottima qualità io vi consiglio ragazzi se dovete prendervi una scheda di acquisizione una outpage con hdpv r2 ovviamente chi di voi ovviamente ha l'entrata hdmi un elgato sempre con l'entrata hdmi basta o una vermedia che quello sono veramente ottimi sono di ottima qualità anche quelle schede di acquisizione altrimenti ragazzi per qualcosa che non riguarda totalmente i videogiochi vi consiglio che ne so un iphone perché anche l'iphone è veramente un ottimo device device un ottimo smartphone cellulare di qualità non solo di versione non solo di materiali ma anche di hardware e tutto software perché è veramente una cosa stupenda si sarà un po limitato a causa dell'ios che magari limita tutto l'entrata eccetera magari non potete scaricare qualsiasi applicazione magari dovete pagare un po troppo per non lo so avere soldi digitali quello che cazzo è però sinceramente ragazzi come device non da nessun quasi nessun tipo di problema magari se siete indietro di qualche generazione incomincia diciamo a diventare un po l'entuccio perché ovviamente tutto viene ottimizzato per la next gen dell'iphone dell'ipol quindi ragazzi non lo so fatemi sapere cosa vorreste per natale questo natale io sono ovviamente risponderò cercherò di rispondere a tutte le vostre domande a tutte le vostre curiosità magari cosa cosa vorrei chiedetemi oppure anche giù non lo so vi risponderò ovviamente e niente ragazzi quindi da cura notte è tutto iscrivetevi commentate mettete mi piace anzi più che altro commentate perché voglio sapere le vostre opinioni le vostre diciamo quello che vorreste voi e noi ci rivediamo alla prossima quindi ciao ragazzi ciao 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 ciao